Ciao, io oggi sono qua per raccontarvi della mia esperienza con la One Long Session che ho fatto con Elisa De Meo. Ho contattato Elisa qualche settimana fa perché mi sentivo un po' stretta nel produrre contenuti, post e video, ma non solo, mi sembrava che tutto il mio impegno, tutti i miei sforzi fossero troppi rispetto alle richieste di contatto che ricevevo. Elisa mi aveva anticipato che saremmo state insieme un paio d'ore, senza guardare troppo l'orologio, ma senza guardare troppo l'orologio si è trasformato in realtà in la dimensione del tempo, non esiste perché siamo stati insieme tanto, è stato un tempo di qualità e in cui abbiamo approfondito molti aspetti, quindi non solo, Elisa mi ha guardato i post e mi ha dato delle indicazioni per alleggerirmi, per essere più fluida e per arrivare di più alle persone, ma abbiamo anche guardato altri aspetti, quindi che cosa posso fare nel mio gruppo Facebook, come ridurre le distanze con le persone che mi seguono, come gestire bene la chiamata conoscitiva in cui eventualmente propongo il percorso, se è la persona in linea con le mie, con ciò che io offro, con il modo che ho di lavorare, quindi abbiamo fatto un bellissimo lavoro tutto tondo, non abbiamo lasciato indietro praticamente nulla, ed Elisa è stata molto carina perché si è resa disponibile nei giorni successivi qualora avessi dei dubbi o volessi confrontarmi con lei su alcuni aspetti, cosa che io ho fatto, mi è risposta in modo puntuale, professionale, ma sempre con leggerezza e con ironia, che è quello che io apprezzo di più delle persone con cui collaboro. Quindi a me di fatto è cambiato il modo in cui mi metto davanti al computer a scrivere i contenuti, anche se abbiamo scoperto con Elisa che li scrivo meglio in autobus, quindi quando sono un po' lontana dalla dimensione super inquadrata. Cosa dirvi? Se state pensando, se state tentennando, faccio o non faccio una parte di questo lavoro con Elisa, io vi dico lanciatevi, lanciatevi con fiducia come ho fatto io, che è stata non ripagata di più, io sono mega soddisfatta del lavoro fatto insieme e non escludo assolutamente che mi possa rivolgere proprio ad Elisa per fare altri pezzetti del mio viaggio professionale, quindi grazie Elisa per questa splendida esperienza.